In quel tempo, apparendo a Dio Gesù Gesù, disse loro, andate in tutto il mondo e non ricordo il Vangelo a voi che crederai a Sarabatezzato o a Sarasato, ma a Dio non crederai a Sarabatezzato. E queste saranno i miei segni che accompagneranno a quelli che credono. Nel mio nome smacceranno il Dio e guarderanno l'inconnovo, prenderanno il manzo di pente, e se per l'anno non capiremmo, non rieveranno la patata, imporando le mani ai malati, questi rieveranno. Il Signore Gesù, dopo aver guardato con loro, ho assunto in cielo e si dette alla testa di Dio. Allora esso partiremo e mi legavano da più. Mentre il Signore operava, insieme con loro confermavano la parola, con i modici che accompagnavano. Parola del Signore. Parola del Signore. Parola del Signore. Era questo che stavamo nel processo. In certo poi, i giorni tra i canonici di Santa Costituzione, dopo l'ordinazione, se fosse colpato, ebbe un grande desiderio di provocare la fede, di portare la fede a coloro che dovevano chiamarli infedeli. Quindi si tireste verso l'alba, perché si tirava a credere. Essere martirizzato, si tirava i nostri amici. Poi, appena entrato gli altri documenti di Coriino, per esempio, in Spagna, tornavo nel Salmo di alcuni Stati che si tirava la faccia scania, martirizzato, in anima. E anche gli ecologi, che veniva per volentare di schieto e di dirvi, in anima a ciascuno. Schieta solo l'ordomo di Santa Costituzione, e si rispia la scuola di Santa Costituzione. Ecco perché dicevo, in anima a un anima a ciascuno. Gli ecologi, grazie a tutti. Condotto attraverso providenziali eventi, che si sfida, e poi ad assisti, partecipò al Provitro che aveva imposto nel 1221, tornato dal padre San Francesco. Dopo un periodo di giuditudine, amore di Paolo e di Romagna, furono manifestati da Dio e dei suoi dotti eccezionali. Ebbene il figlio della predicazione e dell'insegnamento, divenendo il primo maestro di teologia del Dio di San Francesco. Percorse infaricabili dall'Italia e dall'Italia, convertendo molti eretici, difendendo gli obessi, soccorrendo i miti, mentre il Signore confermava il suo Consolato con i mitici. Passò l'ultimo periodo della tua vita a padre, dove morì presso la scelta, il venerdì 13 giugno 1912. Gregorio IX, lo proclamando santo, 30 maggiori anni del 222, un anno dopo la morte, una sacra di venti santo, lo proclamando santo. Per la sua sabienza e dottrina, di cui rispecchiare queste mani ai miei sermoni, fu insinito dal pio decimo secondo del titolo di Dottore della Chiesa, la grandiosa Basilica, eretta solo la sua tomba, e metano i piedi e i nati da tutto il mondo, il centro di meriera di spiritualità. Queste notizie ce le abbiamo veramente considerate, la grandezza di questo fatto. l'operose da portare. Ricordiamo anche, se possiamo essere delve, il diricevo di qualche venerdì, il diricevo di qualche grazia da voi, il diricevo di qualche grazia da voi, fra il valutante alla prossima.